Alessio Orro, hai finito l'Europeo dell'Italia, 3-0 contro l'Olanda, il tuo commento? Sicuramente sono state molto brave a metterci in difficoltà, infatti non abbiamo espresso affatto il nostro gioco e la nazionale è finita qua con tanto ramarico e comunque con la consapevolezza che potevamo fare in più. Quello fosse un rimpianto un po' più grande, non aver mostrato il nostro gioco come è successo al Grand Prix? Sì, come hai detto te non abbiamo dimostrato il nostro gioco come l'avevamo fatto durante l'estate, è andata così ormai. È stato comunque un anno azzurro positivo, c'è l'amarezza però. Sì, l'amarezza c'è sicuramente, potevamo fare di certo meglio e loro non ci hanno fatto giocare.